Si parlava prima, qualche minuto fa, di questa pandemia che è al giro del mondo, quando in realtà la vera pandemia è un'altra cara Claudia. Sai qual è? Che sarà mai? Che sarà mai? L'inquinamento. Ovvio. Eh sì, l'inquinamento, che ne abbiamo anche parlato all'inizio, che si sta riducendo nei paesi dell'est, che in realtà ogni anno abbassa l'età media della vita dell'uomo, di circa tre anni. Quindi è quella la vera e propria pandemia che sta ammazzando più persone, sta addirittura abbassando l'età media degli esseri umani. Le zone più colpite, per l'appunto, si diceva, sono quelle asiatiche, dove in Cina c'è la riduzione di 4,1 anni di media, in India di 3,9 anni e 3,8 anni in Pakistan. C'è da dire però che in queste zone alcune province hanno dei tassi ancora maggiori, quasi di doppio, perché per quanto riguarda uno stato dell'India, che si chiama Luttar Pradesh, o Luttar Pradesh a seconda degli accenti, esatto, si riduce l'età media di 8,5 anni a causa dell'elevatissimo smog presente. E in alcune zone, soprattutto anche in Cina, di 6 anni. Non sono da meno alcuni degli stati dell'Africa, per l'appunto, dove l'età media si abbassa tra i 4,5 e 7 anni. E questi sono gli stati della Costa d'Avore e la Nigeria, che si vedono ridurre comunque l'età media a causa appunto dello smog. Qual è ovviamente la soluzione se non passare energie rinnovabili? Perché per l'appunto l'uso di combustibili fossili e sostanze non reciclabili ci riempie i polmoni e non solo, anche i nostri vasi sanguini, di tutte queste microparticelle che causano non solo uno stress psicologico, perché se ovviamente sei in un ambiente saturo di smog, non respiri bene, ma ci tappa le arterie, creando uno stress anche a livello proprio fisico e causa comunque di ictus, infarti, malattie cardiovascolari e quindi chi più ne ha più ne metta. Quindi prima di magari dare importanza a certi studi, come magari può essere la NASA che investe per andare nello spazio, proviamo un po' a investire anche sulle energie green, perché ne abbiamo bisogno. E' inutile stare a spendere miliardi per andare sulla Luna a rovinare magari un altro pianeta quando non ci siamo, non sappiamo nemmeno, prenderci cura del nostro... E a proposito comunque di spazio, di recente gli SpaceX, ovvero le navicelle ideate da Elon Musk per le visite a oltremondo, hanno fatto un test di recente e il razzo appena è partito è esploso. Quindi milioni e milioni buttati così nel vento. Comunque, ritornando comunque al discorso dello smog, pensate, fa addirittura più vittime del tabacco e del fumo, cioè ovviamente del vizio del fumo e causa anche le morti più dell'uso dell'alcol o di incidenti, quindi ci sarebbe un po' da riflettere. Cosa che proprio ti si... cioè che poi non te ne accorgi, però respiri ogni giorno quintalate di bip. Esatto, perché a parte questo, cioè proprio in vero... ovviamente hanno fatto uno studio. L'autore di questo studio che ha stilato proprio una classifica delle cause di morte è tale Thomas Munsell. Munsell, perché pensate un po', lo smog uccide 19 volte più che la malaria, 9 volte in più dell'AIDS e dell'HV e si supera di 3 volte appunto i casi riguardanti all'abuso di alcol e sostanze nocive per il corpo. Quindi si calcola che in media ogni anno muoiono tra i 5 milioni e mezzo e i 6 milioni di persone di morte apparentemente quasi evitabili. Perché se ci si prendesse cura un po' più del green del nostro pianeta, non avremmo di questi problemi. No, è vero. Intanto è arrivato il primo messaggino. No, salutiamo Francesco che ci ha mandato un bel buon'estinzione a tutti. Eh sì, ce la meritiamo. Ce la meritiamo. Eh sì, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare se non andare avanti e provare anche a fare anche noi il piccolo nostro nel quotidiano, come magari evitare di ridurre... Come sempre dovremmo fare. Evitare di ridurre l'uso delle plastiche. Noi per esempio a casa l'unica cosa che magari ci rimane a levare sono le bottiglie. Quindi abbiamo evitato i bicchieri, abbiamo evitato le posate. Se si può non si usano. L'unica cosa da fare magari è quella. Cercare di evitare quando è possibile anche di prendere l'auto ma di sfruttare i mezzi. Se uno ha la possibilità anche economica di investire in pannelli solari. Eh. Eh, però il problema è quello perché ovviamente le cose salutari costano, come per esempio le insalate al McDonald's. Quindi è così. La roba salutare costa e noi purtroppo, non tutti se la possono permettere, però non ci permettono nemmeno di fare degli giusti investimenti. Quindi detto ciò, andiamo avanti con la nostra selezione musicale. Grazie. 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 Grazie.